Il 17 marzo, perché è così importante? Con questa proposta di legge vogliamo colmare una lacuna. L'Italia non ha una festa nazionale che ricorda l'unità d'Italia, che è anche in epoca recente rispetto all'antichità della nostra storia. Per cui è importante festeggiarla, è unificante, indica la nostra identità e affratella tutti.